Accade alla Camera, trasmissione a cura del gruppo parlamentare del PD della Camera dei Deputati. Conclusa tra le proteste delle opposizioni, la discussione generale sul disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata. L'esame del provvedimento è previsto dopo le elezioni europee di giugno. Nel corso della seduta, la presidente dei deputati PD, Chiara Braga, ha preso la parola per reagire alla provocazione di una deputata leghista presentatasi in aula con una scritta su una maglietta verde, contravvenendo al regolamento della Camera, e ha ricordato che l'unico simbolo che ha diritto di essere presente è il tricolore. Io mi domando fino a che punto può arrivare la protervia di questa maggioranza e le provocazioni e le forzature che abbiamo visto in queste settimane in commissione e anche oggi in aula. L'unico simbolo che può e ha diritto di essere presente in quest'aula, come lei ben sa, è il tricolore. Non sono le magliette provocatorie dell'onorevole Pordonati o di qualcun altro che vuole utilizzare questo palcoscenico per vendere ai cittadini una riforma pericolosa e sbagliata. Non sono mancati i richiami al regolamento che fanno seguito alle polemiche dopo il voto ripetuto in commissioni affari costituzionali la scorsa settimana, come hanno ricordato Simona Bonafè e Federico Fornaro. Si è preferito creare un precedente pericolosissimo, cioè il precedente per il quale, quando un voto non piace, si può ripetere. Si può ripetere tutte le volte fino a che il risultato non è quello che ci si aspettava. I comportamenti che si sono tenuti necessitano di un intervento chiarificatore della Giunta per i Regolamenti. Come hanno dimostrato questi giorni, qui dentro ci sta il cuore di una delle questioni fondamentali è se questa Camera, se il nostro lavoro è ancora un lavoro possibile per chi fa opposizione in questo Paese. Tutti gli interventi in discussione generale hanno ribadito la forte contrarietà dei DEM all'autonomia differenziata. Il Partito Democratico denuncia il patto di governo fatto sulla pelle del Paese e dei cittadini, quel baratto inaccettabile tra autonomia differenziata, bandierina della Lega, e premierato, bandierina di Fratelli d'Italia. Ma ascoltiamo alcuni stralci degli interventi dei deputati PD, iniziando dal relatore di minoranza Tony Ricciardi. Con questo provvedimento il ruolo del Parlamento, la funzione legislativa assembleare, viene completamente svuotata. Il centralismo governativo dell'esecutivo nazionale insieme al centralismo dell'esecutivo regionale determinano il futuro di interi territori. I valori fondanti della Repubblica, come l'uguaglianza e la solidarietà, oggi sono nominati da un testo superficiale e approssimativo, che fa venire meno anche il vincolo di solidarietà tra le regioni. Voi non date le stesse opportunità e le stesse prospettive, così come disegnato a Costituzione vigente, a tutte le regioni. Sostituite a un regionalismo solidale, un regionalismo competitivo. Finora nessuno ci ha spiegato come si possa solo pensare di far competere il nostro paese nel mondo con venti politiche energetiche differenti. Ma nessuno di voi vede quello che purtroppo accade alle porte dell'Europa. Consentendo al governo Meloni, al duplex Fitto Meloni, di commissariare, di privare il mesogiorno di qualunque potestà programmatorie di spesa state, inconsapevolmente, assestando un ulteriore colpo al sistema imprenditoriale del nordese. Materie fondamentali come istruzione, ambiente, sanità e infrastrutture potrebbero risultare gestite in modo frammentato e disomogeneo, privando il paese di una prospettiva nazionale e sovranazionale essenziale per affrontare la complessità dei problemi contemporanei. L'autonomia differenziata che nega la solidarietà istituzionale fa strame dell'interesse generale, dividendo ancora di più il paese nell'esplosione dei particolarismi sia dei doveri, tra cui quello fiscale, che dei diritti sociali e civili. Non si avventuri, perché non abbiamo bisogno di questi effetti speciali, perché ce ne sono già troppi in giro. Sembra normale che di fronte a un provvedimento di questo genere un solo esponente del maggior partito presente in quest'Aula sia intervenuto nel merito? Un'autonomia che mi dà la possibilità di spendere, senza che io mi debba far carico, di finanziare la maggiore o diversa differenziata spesa. Un'autonomia finanziata con i tributi degli altri, cioè con i tributi nazionali e rariali che vengono appropriati da un singolo territorio, che non ha responsabilità sulle aliquote, che non ha responsabilità sulla base imponibile, che non decide, non si batte per contrastare l'evasione. Non vi interessa la coesione sociale e umana che passa proprio attraverso la scuola e che va garantita a nord e a su da tutti i bambini e le bambine del nostro paese. Voi con questa riforma state togliendo il futuro ai vostri figli. Noi ci stiamo opponendo a una riforma secessionista. Questa è la verità, una riforma che spacca l'Italia unita. Questa è la battaglia che stiamo facendo a difesa dell'unità nazionale. Per questa settimana è tutto. Un saluto agli ascoltatori. Accade alla Camera. Trasmissione a cura del gruppo parlamentare del PD della Camera dei Deputati.